salve a tutti ragazzi benvenuti in questo nuovo video ragazzi oggi proveremo due funzioni di questo power x una di queste la state già vedendo è il sync voice cioè la possibilità di registrare l'audio dal drone o meglio l'audio viene registrato dallo smartphone che però tutto in automatico viene inviato al drone tramite l'applicazione ed il drone stesso l'audio viene sincronizzato con il video che state vedendo quindi sicuramente una funzione unica che ha solo il power x e la cosa bella che non bisogna fare assolutamente niente lui in automatico fa tutto se noi attiviamo dal menu che poi vi faccio vedere come fare perché basta solo andare a sflegare una casellina e attiviamo questa funzione lui in automatico farà tutto quindi in certe situazioni potrebbe essere veramente una cosa interessante e soprattutto unica vedere o meglio avere un video che quando andremo a prelevare dalla nostra sd avrà l'audio di quello che era intorno a noi in quel momento quindi per riprendere certe situazioni magari una festa piuttosto che un'attività sportiva non lo so qualcosa in cui vorremmo avere anche l'audio che c'era nell'ambiente in quel momento potremmo fare quindi è una funzione in più che questo power x ha sicuramente in esclusiva almeno fino adesso che io sappia non c'è nessun altro che fa questa funzione soprattutto che la fa tutta in automatico ovviamente se faremo un video panoramico non servirà a niente però in certe situazioni secondo me super interessante ok ragazzi adesso volevo farvi vedere come si fa a attivare e disattivare questa funzione di registrazione o meglio sincronizzazione dell'audio con il nostro power x allora la cosa è molto semplice basta entrare nel menu della fotocamera quindi le tre stanghettine sotto il pulsante di registrazione a questo punto vedete che se siamo nel menu dell'ingranaggio di destra quello evidenziato in blu in alto abbiamo record for video quindi basterà andare così cliccandoci lo andremo a disattivare mentre così lo andremo ad attivare quando l'avremo attivato cosa succede questo è solo per attivarlo e disattivarlo e già abbiamo fatto tutto quello che dovevamo fare noi cioè quindi solo decidere se lo vogliamo o meno c'è una cosa veramente super semplice basterà a questo punto andare a far partire la registrazione classica del video come facciamo normalmente con tutti i droni quindi clicchiamo la registrazione video e vedete che appare un microfonino e vicino alla mappa quel microfonino sta ad indicare che la funzione di registrazione audio dello smartphone è attiva e che quindi il controller e lo smartphone invieranno l'audio al drone e l'applicazione e tutto l'insieme comunicheranno decideranno faranno finché sincronizzeranno l'audio in automatico quindi noi quando andremo a scaricare il nostro video preso dalla nostra sd avrà l'audio di dove eravamo noi con lo smartphone registrato e sincronizzato con il video quindi può essere una funzione che a tanti non interessa a tanti sia ad alcuni magari piacerebbe provarla comunque una cosa che c'è ed è unica perché per quello che so io solo il power x a questa funzione poi vedete che ci sono le barrettine che salgono meno in base al diciamo al volume della voce che arriva allo smartphone quindi in certe situazioni potrebbe diventare interessante avere l'audio che c'è in quell'area inquadrata dal drone direi che questa funzione è promossa l'ha fatta bene e la fa bene adesso non ci resta che provare l'RTH o meglio return to home perché è una cosa che piace a tanti vedere come un drone fa return to home perché è vero che lo fanno praticamente tutti i droni return to home anche quelli super economici se hanno il gps ma pochi lo fanno in maniera perfetta nel senso di decollare da un landing e riatterrare sul landing questa cosa la fanno in pochi o meglio tanti magari la fanno lo beccano una volta ogni tanto certi proprio non lo beccano mai certi hanno tante menate e colore dell'erba e l'asfalto la terra noi landing se sull'erba non lo vede perché l'erba è secca era un po arancione e se nella terra no 7 era bagnata magari si perché fa contrasto e se il landing è blu lo vedono se non c'è queste menate tanti i droni ce li hanno ovviamente non ce la dj e queste menate né autelivo né parata nati ma altri droni sicuramente ce le hanno e ce ne hanno pure tante di queste paranoie quindi vediamo come lo fa questo power x spero lo faccia bene e comunque vi ricordo sempre che ci tengo a ricordarlo contro è completamente nuovo e gli aggiornamenti miglioreranno sicuramente ogni suo aspetto che sia quelli che già sta facendo bene magari miglioreranno ancora che quelli che magari non verranno tanto bene e probabilmente miglioreranno quei prossimi giornali per adesso tutto quello che ha fatto l'ha fatto comunque bene siamo pronti a fare un bel ritorno to home adesso vediamo come lo fa quanto ritorna vicino al landing se si avvicina tanto poco adesso vediamo come fa questo ritorno to home e poi comunque nel caso poi lo rifaremo più avanti con i vari aggiornamenti e vedremo se è cambiato o meno qualcosa nel caso non lo facesse molto bene quindi ragazzi adesso senza perdere altro tempo decolliamo andremo una distanza non so di 200 250 metri ad un'altezza di una settantina di metri 100 metri adesso vediamo e poi facciamo un bel ritorno to home e vediamo quanto si avvicina al landing quindi adesso decolliamo col power x in questo suo ritorno to home andiamo ad un'altezza di un 70 metri ok e ci portiamo ad una distanza di circa 200 metri siamo quasi a 200 metri ok a questo punto direi che possiamo fare un return to home quindi andiamo a cliccare il tasto sul controller ok return to home attivato e adesso vediamo cosa succede mi sposto che la sua telecamera che oggi dimenticato il cappello per attaccare la gopro o meglio per attaccare la dj osmo action quindi mi sposto e aspettiamo che torni il power x quindi sta arrivando ho abbassato il gibal così vedete anche voi cosa inquadra il power x e vediamo di quanto sbaglia il landing sta arrivando allora è lì lo vedete vediamo sta arrivando giù a tuono vediamo mi sposto che forse sono contro luce e non lo sbaglia di tanto e se lo sbaglia lo sbaglia di poco e vediamo e no ragazzi l'ha beccato quindi ragazzi direi che il punto di vista dell'rth o meglio del precision landing il power x è sicuramente promosso tutto quello che ha fatto fino adesso l'ha fatto bene e ripeto continuano arrivare un sacco di aggiornamenti che miglioreranno ancora di più questo drone ovviamente dobbiamo provare ancora un po di cose come vi avevo detto dovremmo provare ancora la fotocamera o meglio provarla in una situazione vera nel senso in cui veramente potremmo dire si è scarsa non è scarsa o si è discreta cioè un una situazione vera che non ho ancora avuto l'occasione di provare e un'altra cosa che dovrò provare che vi avevo promesso è un bel range test per vederlo in azione anche in quella modalità lì che è una cosa che interessa tanti sapere la trasmissione che ha questo drone quindi ragazzi sono contento perché non sono tanti i droni che ritornano sul landing sono veramente pochi che si avvicinano ce n'è ma che beccano il landing secondo me non ce n'è tantissimi tolto tutta diciamo la lista di droni di jai ovviamente ma a livello proprio di marchio c'è dj ai autelivo e paro tanati gli altri quindi ragazzi se questo video in cui vi ho portato queste due nuove prove del power x in attesa che arrivino le altre c'è un range test il volo con la pioggia e un cinematic video per vedere la qualità della fotocamera lasciate un grosso pollice su iscrivetevi al canale 3 che mi offerte se non avete ancora fatto e se vi va ovviamente ragazzi iscriviti a questo canale youtube per non perdervi neanche un video un volo recensione in testo tutta una novità ciao ciao